...cade di fronte a queste immagini, l'uomo perde il controllo di sempre, l'uomo non capisce più niente, guarda il piano. Guarda tu! Eccovi, si inizia ad accadezzare quello che è lo scudel, la pretenda, la nostra. Guardate, in questi bambini sensuali, fatti, tre, 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 tre. Guardate, hanno bisogno di essere rinforcati, hanno bisogno di sentire il freddo e l'acqua. Ora, immaginate questo corpo nello sud, nello vicino a loro. Sperate che è gratisissime, dove si farà, si sceglie, si guardano, uno sguardo attenzionato, uno sguardo attenzionato, un sguardo attenzionato, un sguardo attenzionato, un sguardo attenzionato, un sguardo attenzionato. Guardate, in questi bambini sensuali, si guardano attenzionato, un sguardo 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 attenzionato, un sgu Grazie. 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 Un giorno... Un giorno... Un giorno... Un giorno... Un giorno... Sempre... Più vicino... Uno di che la scena... All'altro del stesso giorno... Federato... Allora... Federato... La casa... Ecco... Ehi... Ehi... Signori... 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 Tutto a volare... Allora... Allora... Con il salato... Vediamo... Guarda... Vi sta... Oh... Ci sta... Vi sta... Vi sta... Vi sta... Vi sta... Vi sta... Vi sta... Guarda... Sta... Sì... Con questa scuola... Chissà cosa... Volevo presentare... Un'altra... E... Non è stata... Vi sta... Vi sta... Un giorno... Un giorno... Ecco... Lora... Ci sentite... Un giorno... Uno... Due... Tre... Si avvicina... Non è stato... Grazie a tutti. Grazie a tutti.